La giovane e talentuosa Angelina Mango, erede del celebre cantautore Mango, ha finalmente svelato uno dei suoi segreti meglio custoditi, l'identità del suo misterioso fidanzato che l'ha accompagnata nella difficile fase di ripresa dopo la tragica perdita del padre. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Angelina, classe 2001, nata a Maratea nelle terre lucane, ha destato ammirazione per la sua grinta e il suo talento ereditati dai genitori. In una recente intervista esclusiva, la giovane cantante ha confidato il suo percorso di dolore e rinascita, toccando il delicato argomento della morte improvvisa del padre nel 2014, evento che ha segnato profondamente la sua giovane vita. Dopo la scomparsa di mio padre, è stata una fase incredibilmente difficile, ha rivelato Angelina con voce commossa. Ma grazie al sostegno della mia famiglia e al grande amore del mio fidanzato, sono riuscita a trovare la forza per risollevarmi. L'identità del misterioso compagno della giovane artista è stata finalmente rivelata, si tratta di un affascinante ragazzo conosciuto dopo il trasferimento a Milano, dove Angelina si è stabilita con la madre e il fratello per ricominciare da capo. Il suo amore e la sua presenza costante hanno rappresentato per Angelina una vera e propria ancora di salvezza durante i momenti più bui. Con il sorriso sulle labbra, Angelina ha concluso, il mio fidanzato è stato la spinta decisiva per superare i miei problemi e guardare al futuro con ottimismo. È il mio grande amore e la mia fonte di ispirazione. Mentre i fan della giovane cantante celebrano questa rivelazione tanto attesa, i paparazzi già si apprestano a catturare ogni momento di intimità tra la coppia, alimentando il fervore del gossip nel mondo dello spettacolo. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.